ragazzi eccoci un altro video voi 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 questo è un po' andiamo un po' un attimino controcorrente questo è un po' un video particolare particolare quando riguarda la cosa la finale del 28 agosto semifinale un torneo per nostro delle regioni non è lo nostro delle regioni della praticamente la semifinale finale si svolge allo stadio Benito Stirpe di Frosinone 28 agosto siete tutti invitati a partecipare voi 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 allo stadio del Frosinone Benito Stirpe siete tutti interessati a partecipare a chi vuole partecipare chi cazzo vuole partecipare partecipare chi no sta alla casa facciate come come pare al mare a destra sinistra però noi stiamo in vita a chi vuole venire si gioca il 28 agosto semifinale e finale insieme infatti questa cosa però del cazzo perché non si può giocare al finale insieme che poi siamo a rischio di condizione la condizione della fisica non è delle migliori però purtroppo è stato deciso così dal comitato della Champions Soccer giociaria è un torneo che stiamo a fare che abbiamo fatto e cominciato la metà di luglio fino fino al 28 agosto e il 28 agosto si sbocca lo semifinale e finale insieme allo stadio Benito Stirpe chi cazzo può venire invitato innanzitutto iscrivetevi sempre alla pagina come sempre al canale voi 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 a Instagram a Instagram al canale di Youtube iscrivetevi sempre in massa e chi vuole venire il 28 agosto per la finale in semifinale lo sbocca lo sbocca lo stilpe e si vedrà io sono cominciato a giocare perché praticamente c'è stato un ripistino nella lista che di più di 18 giocatori non si potevano inserire ovviamente l'organizzazione è stata un po' a desiderare sul fatto che la gente poi non tornava a 91 squadre della regione chi cazzo vuole partecipare a Milano a tutto il mondo a Milano a Ardegna a Roma a destra si chi cazzo vuole partecipare a tutta Italia a tutto il mondo mondiale mondiale per noi per noi per noi per noi fanno squilo e partecipare si presenta direttamente al campo che dovete venire in massa a sostenerci per noi per noi chi vuole venire da Napoli a tutte le zone mondiali venite ci vuole un favore grosso e immenso come una casa e come cazzo può fare nessuno obbliga se ne vuoi il biglietto non lo so penso 5 euro non so quanto costa la malando costa poco alla fine dovete venire pure una squadra di serie A tutto il mondo invitava tutti no 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 venite a vedere mi rilassavano così che se vediamo io voglio venire mi raccomando ma trovate tutti là lo Stato deve essere pieno e granito proprio deve essere così speriamo bene e andremo buono riguardo a sto cazzo di messaggio ecco dove vado a leggere i messaggi che cazzo una cartella clinica da leggere comunque ci vediamo ci vediamo al prossimo video e venite in massa mi raccomando voi 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 un bacione venite non fatevi ritirati venite in massa tanti tantissimi per solo a sottolinearci il 28 d'agosto 28 d'agosto semifinale la mattina eventuale finale senza scongiuri cattavano le cosiddette palle perché invece succede però speriamo andrà tutto bene verso giusto comunque ci diamo ringrazio per la la visione l'esecuzione e ci vediamo al prossimo video voi venite in massa mi raccomando voi 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 allo strada del frosinone venite o stip se non lo sapete mettete il navigatore fate il possibile per venire voi voi